A Chieti, il palazzo trinchese di via Don Minzoni, che pende di oltre 60 centimetri, è a rischio crollo e sarà presto abbattuto. Lo stato di deterioramento dell'edificio, che ha portato all'evacuazione, si è aggravato. I proprietari ormai da circa un anno non vivono più nel palazzo di nove piani alto 30 metri, che si trova al civico numero 5. 27 famiglie sono state costrette ad acquistare nuove case dove si sono trasferite, ma lo stabile deve essere demolito perché, se dovesse crollare, travolgerebbe anche le case vicine, che hanno comunque problemi di stabilità a causa dei quali i residenti stanno effettuando costosi lavori di consolidamento e di messa in sicurezza. Il sindaco Umberto Di Primio, con un'ordinanza urgente che fa seguito a quella del 18 dicembre del 2017 per lo sgombero per motivi di sicurezza, ha disposto l'abbattimento per salvaguardare l'incolumità pubblica e privata. In quella zona ci sono dei problemi legati alla consistenza del terreno, ma ci sono soprattutto dei problemi legati alla realizzazione di molti di quei palazzi che costruiti negli anni 50, 60 e gli ultimi negli anni 70, ovviamente sono stati realizzati con tecniche costruttive che oggi non sono più ritenute adeguate. Quindi noi stiamo monitorando in questo momento la situazione, lo stiamo facendo insieme anche alla regione, ma anche alle proprietà, e stiamo lavorando perché non soltanto si abbiano dati certi sulla situazione che riguarda tutta quella dorsale della nostra collina, ma ci siano anche risposte nei confronti dei privati. Ad esempio, nel caso del palazzo da demolire, il Comune, interloquendo con i proprietari, si è già detto disponibile, io ieri ho fatto un incontro, si è detto disponibile, il mio tramite, a trovare anche una diversa allocazione per la ricostruzione di quell'edificio. Per quanto riguarda la demolizione, quali tempi si prevedono? Il condominio ha già affidato i lavori ad una ditta specializzata, la quale inizierà a brevissimo le attività di demolizione, Come mostrano le immagini di Andrea Berardinelli, ci sono anche altri palazzi che hanno problemi simili, ma non così gravi, tanto che le famiglie hanno dovuto già effettuare dei lavori. Abbiamo fatto i pali di acciaio, è arrivato fino a un palo a 18 metri, è tutto spaccato, è andato a casa mia, l'ultimo piano, è tutto lesionato. Avete paura? Io sì, no, tengo paura perché no, ho paura di cacciare di risolta.